Un saluto a tutti. Quando si tratta di terra piatta si parla di aprire le menti, farsi venire dubbi sulle cose. Ci sono dei complottisti che riguardano la terra piatta, dicono che se ci prendono in giro su tutto, potrebbero prenderci in giro anche sulla forma della terra. Le cose sono due. O convincere chi già crede in teorie del complotto che la terra sia piatta. Oppure convincere chi non crede nei complotti che la terra è piatta. Così va portare poi a credere in tutti gli altri complotti. Perché effettivamente se ci hanno mentito sulla forma della terra potrebbero averci mentito su tutto il resto. Comunque, dire che se ci hanno mentito su certe cose ci hanno mentito anche sulla forma della terra è un ragionamento fallace. Perché è un vero e proprio pintarico dal dire che qualunque cosa potrebbe essere falsa al dire che qualunque cosa potrebbe essere vera. Cercherò di spiegarmi meglio. Ve lo ricordate Cartesio che è ricordato per la frase Cogito, ergo su, cioè penso, quindi esisto? Lui visse nell'epoca in cui Galileo aveva soccato tutti mostrando che una cosa evidentissima era in realtà falsa. Cioè anche se il sole sembrava girare intorno alla terra è vero esattamente il contrario. Allora qualunque cosa potrebbe essere falsa, se persino una cosa così certa di evidente era falsa. Così Cartesio pensò di dubitare di qualunque cosa, anche dell'esistenza della realtà intera. Ma giunse alla conclusione che l'unica cosa certa e indubitabile è l'esistenza di se stessi. Poi Cartesio si arrampicò sugli specchi per cercare di giustificare di nuovo l'esistenza della realtà per come la vediamo. Ma questo è un altro discorso. Secondo il dubbio iperbolico cartesiano qualunque cosa potrebbe essere falsa. Ma questo è in netta contraddizione col fatto che qualunque cosa potrebbe essere vera. La conseguenza del dubbio iperbolico è la temporanea sospensione del giudizio. Cioè se tutto potrebbe essere falso non puoi né affermare né negare che qualcosa sia vero o falso. Finché non hai abbastanza informazioni da avere almeno un'opinione provvisoria. Cioè il dubbio deve portare a informarsi sull'argomento. Invece la strategia dei terrapiattisti o di certi complottisti in generale è ben diversa. Innanzitutto dire che una cosa potrebbe essere falsa non è detto che sia falsa. Se dubitiamo di qualcosa dobbiamo indagare per poter dimostrare che è falso. Invece secondo i terrapiattisti se qualunque cosa potrebbe essere falsa allora la terra sferica è falsa. Ma se qualunque cosa potrebbe essere falsa allora potrebbe essere falsa la terra sferica così come potrebbe essere falsa la terra piatta. Per assurdo la terra potrebbe essere cubica o piramidale. Per cui, credere che se la terra sferica può essere falsa è sostenere solo per questo che la terra è piatta è una fallaccia di pertinenza. Perché c'è un salto ingiustificato da dire che una cosa potrebbe essere falsa al dire che è falsa e che quindi è vera un'altra cosa. E qui aggiungo che da una promessa di dubbio iperbolico si passa a credere in modo dogmatico e a critico in un'altra cosa. Non solo, si passa da quello che dovrebbe essere un atteggiamento di dubbio verso qualunque cosa al credere certamente a qualunque cosa. Mi spiego meglio, se per loro qualunque cosa potrebbe essere falsa, ogni cosa è falsa e di conseguenza in alternativa a quelle cose che sono false? Qualunque cosa potrebbe essere vera. Esempio, se qualunque cosa potrebbe essere falsa, dire che gli asini nuvolano potrebbe essere falso, allora gli asini volano. E la stessa cosa vale con qualunque cosa, perché tutto potrebbe essere falso, compresa la terra sferica. Credo che sia chiaro qual è l'errore logico dei terrapiattisti che li porta a confondere il dubbio iperbolico cartesiano con il credere a qualunque cosa. Mascherandosi da persone con mentalità aperta, con spirito critico e antidogmatico permettendosi di dare dell'indottrinato a chi non la pensa come loro. Se loro fossero davvero persone di mentalità aperta studierebbero la logica formale, per argomentare l'epistemologia, per studiare il metodo della scienza, la linea di demarcazione tra scienza e non scienza, come funziona il progresso della scienza e il falsificazionismo e poi potrebbero passare a studiare l'argomento in questione secondo la scienza. A tutto ciò non accade, per questo abbiamo la teoria della terra piatta. Ho provato ad essere il più chiaro e sintetico possibile, ma questa cavolo di voce elettronica certamente non aiuta. Per il momento è tutto. Alla prossima!